Una ricognizione delle strutture presenti sul territorio ma anche e soprattutto un grido d'aiuto. L'Axi di Salerno ha chiesto al Comune un impegno per garantire spazi adeguati nei quali praticare le discipline sportive sul territorio cittadino. Oltre al presidente Venosi era presente anche l'assessore Savastano. Le strutture e gli impianti che sono pochi e qualcuno è anche fatiscente, è da ristrutturare. Soldi non ce ne sono come sappiamo tutti, però si potrebbe fare qualcosa con l'apporto dei privati, magari sfruttando quegli spazi liberi e dare la possibilità anche a dei privati di realizzare delle palestre prefabbricate che costano poco e quindi sono accessibili un po' a tutti. In questo modo risolveremo un po' il problema delle palestre scolastiche. Molto sono fatiscente e poi c'è il problema dei dirigenti scolastiche che frappongono ostacoli. Io sono qui in particolare a ragionare su quello che è l'attività che facciamo per l'integrazione attraverso lo sport delle persone non solo con disabilità ma di tante associazioni che lavorano nei quartieri della città di Salerno. È chiaro che la cosa più importante che sarà posta stamattina è quella di sviluppare possibilmente l'impiantistica sportiva nella città di Salerno che c'è carenza sicuramente. Ma c'è un progetto di rilancio importante che è stato presentato qualche mese fa nella nostra città riguardo alla cittadella dello sport che sarà realizzata nelle vicinanze dello Stadio a Lecchi.